Disaggin questi giorni nell'ospedale Balvibrata di Sant'Omero a causa dell'accorpamento dei reparti di ortopedia e chirurgia generale. L'accorpamento è in vigore dal 1 luglio e lo sarà fino al 15 di settembre. Il motivo è dovuto all'ormai stranota carenza di personale al blocco assunzioni che non permette una turnazione dello stesso personale. I due reparti sono passati da 28 e 25 posti letto rispettivamente ad averne 10 ciascuno con buona pace dei ricoveri. Sono infatti gli utenti e i pazienti che hanno programmato un'operazione e che si vedono rispalmati le date degli interventi a subire tutto ciò. Il vero problema potrebbe essere però rappresentato dal pronto soccorso che rischia l'ingolfamento a causa dei tagli dei posti letto. Insomma la preoccupazione per la CGL, funzione pubblica e palese. È un problema di tutti gli ospedali italiani nei periodi estivi, minimizza il manager dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano. Con la carenza di personale, il blocco assunzioni e le ferie c'è poco da inventarsi. È un disagio momentaneo dovuto alla necessità di riorganizzazione in un periodo in cui comunque i ricoveri sono sotto lo standard. di contro dobbiamo renderci conto che tre ospedali di base nella provincia di Teramo non ce li possiamo permettere. Se non si procedeva in questo modo dovevamo chiuderne uno delle due l'una e il commento laconico del direttore generale dell'ASL di Teramo. Grazie. Grazie. Grazie.